Nei primi tempi del sinodo ero membro anche di commissioni interdiocesane e ho avuto la grande fortuna di trovarmi in una riunione a Berna quando venne a farci visita l'allora Cardinal Vojtivoa e mi ricordo che ero rimasto veramente colpito da questa personalità e nella mente mi rimane come fotografata questa sua presenza al tavolo dei conferenzieri. Il sinodo dice qualcosa oggi perché è stato un momento intenso di vita della Chiesa ticinese, è un momento di vita ecclesiale che rimane nella storia. È stato un avvenimento dove sono stati sollevati molti problemi tuttora attuali e che attendono probabilmente una risposta, una risposta probabilmente che non era o non è quella, almeno in parte, che ci si poteva aspettare trent'anni fa. Il Papa Benedetto XVI ha detto non sono un monarca. Sono convinto che quella concezione era nata da un processo di induzione. Cioè l'attitudine a credere, ad accettare i dogmi senza discuterli, ha comportato nel tempo per molti cristiani del passato un atteggiamento di completa remissione all'opinione dei ministri sacri su tutti gli argomenti possibili, in particolare su quelli legati da vicino o da lontano al campo religioso. Benvenuti e bentrovati ai nostri telespettatori sulle immagini di un convegno, un convegno dedicato al Sinodo 72 di cui un esperto, se così si può dire, è Luca Brunoni. Esperto perché su questo sinodo ha fatto la sua tesi di licenza o di dottorato? Di licenza. Una tesi su un sinodo, ma intanto per quelli che non c'erano e che non sanno cos'era, cos'è un sinodo? Un sinodo è una riunione di laici e sacerdoti che si chinano su dei problemi riguardanti la comunità ecclesiale e la comunità ecclesiale inserita nel mondo. Cioè un mini concilio praticamente? È un mini concilio a livello di chiesa locale con comunque delle sfumature e delle limitazioni nella possibilità di intervento. Sinodo che è stato fatto 30 anni fa, perché se ne parla ancora? Se ne parla anzitutto perché è un evento che ha coinvolto una generazione che è ancora insomma attiva e presente nella chiesa diocesana ed ha portato a comunque una nuova visione di chiesa. Quindi da questo sinodo ci siamo passati attraverso, quindi occorre riflettere. Poi siamo in una fase adesso che gli anni settanta eccetera iniziano ad essere indagati anche storicamente, quindi è interessante capire come in quegli anni il mondo e la chiesa stessa è evoluta. Ecco uno dei protagonisti di questo sinodo era il nostro vescovo che di questo sinodo è stato appunto uno di quelli che ha partecipato anche a una commissione specifica e che adesso da vescovo riguarda il concilio. Lo vediamo insieme. Per me è stata un'esperienza di grande intensità, di grande valore e lo spirito del sinodo come prima del concilio mi ha accompagnato nel mio servizio pastorale a questa chiesa, tant'è vero che diventato vescovo ho potuto fare rivivere e estendere un fuoco che in me non si era mai spento. Il sinodo non è stato un avvenimento effimero, almeno in coloro che vi hanno partecipato attivamente in prima persona, ha lasciato una traccia che sarà della braccia sotto le ceneri, comunque una braccia che dopo 30 anni è ancora presente, tanto che ha potuto essere riattivata e questa mattina nella riunione che abbiamo avuto sprigionarsi anche in fiamma. mi pare che questo sia un segnale molto positivo sul valore che il sinodo ha avuto nella nostra chiesa. Ritengo che oggi non ci siano ancora le condizioni per convocare un nuovo sinodo, proprio perché questa braccia deve essere riattivata, il fuoco deve diffondersi e poi vediamo, io resto aperto ai segni che lo spirito mi può mandare anche attraverso le richieste della mia chiesa. Prima ho fatto un errore parlando di sinodo, ho parlato di concilio, ma perché il sinodo e il concilio erano strettamente legati, Luca Brunoni? Sì, il sinodo esiste perché dieci anni prima si è celebrato il concilio Vaticano II, non che nella storia della chiesa i sinodi non fossero mai esistiti, ma la struttura di questo sinodo, cioè la presenza di laici assieme a sacerdoti, come ho detto inizialmente, è fondamentale ed è un'acquisizione del concilio Vaticano II, cioè c'è all'interno di questa visione un'idea di chiesa composta non solo dalla gerarchia, dai sacerdoti, dai vescovi, eccetera, ma una chiesa intesa come popolo di Dio, una chiesa che comprende tutti i battezzati e quindi il sinodo esiste perché il concilio Vaticano II ha riaffermato questo concetto di chiesa come popolo di Dio e quindi è il popolo di Dio che si china sui problemi che la storia pone in quel momento alla chiesa. Dalla sua analisi storica viene fuori che il sinodo è una cosa che ha avuto un impatto sulla gente, sulla chiesa, oppure è rimasto un fenomeno comunque isolato, cioè fatto per quei pochi che ci sono stati coinvolti? Ecco, questo di trarre i bilanci del sinodo è uno degli argomenti più ricorrenti, effettivamente se noi misuriamo quello che è l'impatto, quello che è stato il contatto con la realtà quotidiana della gente, il sinodo ha subito un distacco. Però a distanza di tanti anni non lo metterei così negativamente questo distacco, anche perché comunque il sinodo ha permesso a certe persone veramente di creare dei legami, dei contatti che poi dopo hanno portato dei frutti in seguito in Diocesi. Bisogna dire che molti sinodali al termine di questi tre anni di lavoro intense hanno anche lasciato il posto ad altri che però non avevano vissuto questa esperienza di comunione e quindi è mancato un po' questo tre diugno tra i sinodali e coloro che poi dopo in seguito avrebbero dovuto portare avanti questo spirito. Invece per altre persone che sono rimaste impegnate all'interno della chiesa, eccetera, ha portato veramente dei frutti. Non fosse altro che il sinodo conta quattro futuri vescovi, tre della nostra Diocesi e uno, padre Grab, ha partecipato ai lavori del sinodo ticinese e quasi tutti i vescovi dell'attuale conferenza episcopale hanno partecipato al sinodo 72 perché è stato un evento comunque a livello svizzero e quindi c'è stata una generazione che ha contribuito alla chiesa degli anni successivi che ha vissuto questo evento. Un altro dei protagonisti di questo evento era, ed è ancora, visto che è stato un relatore di questo incontro sul sinodo, Giorgio Zappa. Vediamo. Sulla grandiosità dell'evento non ho nessun dubbio, sulle singole conclusioni, sui testi, eccetera, sarà necessario ancora un lavoro di scavo e evidentemente a distanza di anni le cose possono apparire in una visione diversa da quella più entusiasta con cui noi l'abbiamo vissuto. L'evento invece è stato veramente un'occasione unica nella nostra vita di cristiani. Ho parlato in parecchie occasioni di una catechesi forte e di un privilegio che considero, che io considero personalmente aver potuto partecipare al sinodo. L'impressione era quella di una chiesa diversa da quella che avevamo conosciuto, anche se far parte di movimenti cattolici in un certo senso ci aveva preparato a questi dibattiti, ci mancava forse la possibilità di un confronto con i teologi sul piano di testi precisi. Quando ho cominciato con la presidenza del Consiglio Pastorale aderendo all'invito del Vescovo avevo avuto l'impressione di allargare l'impegno a favore della Chiesa, l'impegno con cui avevo vissuto all'interno del Movimento Scout. La visione di Chiesa era evidentemente quella che c'era stata data dal Concilio Vaticano. Se ho parlato di non aver avvertito subito la novità epocale del Concilio è perché su certi punti forse non pensavamo che fosse necessario un Concilio per decidere. Mi riferisco in particolare alla libertà di coscienza, che è stata credo l'acquisizione più importante sul piano teologico del Concilio Vaticano II. Devo dire che alla nostra generazione non sembrava necessario che questa libertà di coscienza venisse proclamata esplicitamente in un documento della Chiesa. Il proliferare dei movimenti che ha portato indubbiamente una nuova ventata di vigore all'interno della Chiesa ha avuto come conseguenza inaspettata quella di uno spezzettamento che forse merita di essere riconsiderato almeno a livello di strutture diocesane. Voglio dire che oggi è più importante che non un tempo impostare una pastorale giovanile a livello diocesano e con tempo questi compiti erano svolti in blocco dall'azione cattolica. Un'analisi complessa, quella che ci presenta Giorgio Zappa, uno dei temi che mi sembrava importante toccare era quello che riguardava la libertà di coscienza. È vero che oggi per esempio la libertà di coscienza ha portato a effettivamente un distacco tra il pensiero della Chiesa e il pensiero delle persone, cioè uno si sente libero di pensare a quello che vuole fondamentalmente. Certo, questa può essere una sorta di evoluzione forse anche prevedibile di questo principio, ma è un principio comunque necessario. La libertà di coscienza però presuppone che la coscienza venga formata e sulla formazione della coscienza credo proprio che la Chiesa non abbia gettato la spugna e abbia anzi insistito e insiste tuttora. È chiaro, è una visione che porta con sé la maturità di scelte che il fedele è chiamato a fare, ma insomma il cristiano è colui che cammina con i propri piedi insieme agli altri verso il Signore e si comporta quindi di conseguenza. La Chiesa in questo ne è comunque tuttora maestra. La sua esperienza personale, cosa vuol dire per un giovane accostarsi a una cosa di questo genere? Significa rendersi conto che la realtà della Chiesa in cui mi trovo ad operare, in cui mi trovo a crescere, esiste perché qualcuno c'è stato prima di me, questa è la cosa che per me è stata più importante, conoscere la generazione che mi ha preceduto, la generazione che ha preparato insomma il terreno perché io potessi vivere ancora oggi l'esperienza di Chiesa. Per me è stato molto importante vedere come una generazione in un determinato contesto storico abbia risposto alle esigenze della Chiesa. In fondo la Chiesa chiedeva a quel tempo ai laici di rendersi conto dell'importanza della corresponsabilità, di rendersi conto l'importanza di partecipare alla Chiesa, di rendersi conto che la Chiesa non è composta solo dai sacerdoti, dai preti, ma che tutti siamo chiamati a sentirci Chiesa. Come giovane è cresciuto sotto il pontificato di Giovanni Paolo II, ecco questo mi è diventato naturale, è diventato il mio ambito di crescita, però non era evidente ed è stato preparato da questa generazione che ha celebrato il Sinodo. Un Sinodo che continua idealmente, almeno nel pensiero del nostro Vescovo, a dare frutti rilanciando le grandi tematiche del Concilio Vaticano II. Concludiamo qui la nostra puntata, ringrazio Luca Bruno di essere stato con noi e lascio le immagini e la parola al nostro Vescovo. Buona settimana. Se il Sinodo ha scadenze lunghe, un Concilio ha scadenze addirittura secolari, prima di essere applicato con pienezza, ma il Concilio per me è stato veramente una svolta fondamentale nella coscienza, nella consapevolezza della Chiesa, nell'acquisizione, nel passaggio da una Chiesa piramidale a una Chiesa circolare comunionale e l'essere passati dalla piramide al cerchio credo che è stata un'acquisizione che non può più andare persa e che deve essere solamente arricchita, accresciuta e diffusa in questa circolarità che vede coinvolto tutto il popolo di Dio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.